La giustizia a Urbino rallenta. Secondo i dati del Ministero, il Tribunale è tra i più inefficienti nel bacino dei piccoli uffici giudiziari, con processi accumulati e rinvii costanti. Dal 2005 i procedimenti civili pendenti sono aumentati del 40%, quelli penali del 106%. Che il Palazzo di Giustizia sia in affanno lo conferma lo stesso Presidente. Le pendenze si sono accumulate perché, come sapete, c'è stata la chiusura del Tribunale preceduta da questa proposta di chiusura. Io sono stato nominato come Presidente a fine giugno, per cui siamo 5 più 6. Quindi abbiamo rimesso in moto tutta l'attività giudiziaria. La pendenza maggiore era stata quella delle cause civili, purtroppo, che sono quelle che interessano direttamente il cittadino, perché le risorse sono state concentrate sui processi penali e adesso stiamo rimettendo in moto il tutto. Il personale amministrativo è carente e quindi stiamo aspettando la copertura di questi posti. Molti sono andati in pensione, i posti non sono stati coperti, ma questo è un problema che riguarda anche il Tribunale di Pesero, dove sono stato fino al mese di luglio. Andiamo avanti con personale precario, anzi sono giovani bravissimi, però non hanno stipendio, ma svolgono attività giudiziaria di contorno e di supporto che dovrebbe essere fatta dal personale amministrativo. Se potesse fare una richiesta diretta al nostro Ministro della Giustizia, cosa chiederebbe? Allora, la prima cosa è la copertura del personale amministrativo, che sarebbe abbastanza semplice da realizzare perché, ripeto, adesso c'è la mobilità personale della provincia. La seconda cosa potrebbe essere quella della revisione del circondario, quindi molti comuni che sono sotto il Tribunale di Pesero potrebbero passare sotto il Tribunale di Urbino, quindi sgravando Pesero. La terza cosa, questo è uno stabile di proprietà demaniale che è dato, incomodato al Ministero della Giustizia, bisogna di manutenzione, abbiamo il tetto, sono tre anni che sono questi lavori qui davanti, che non arrivano a compimento, non so a chi chiedere come sollecitare i lavori. Questo è il problema più grave perché i lavori per la copertura del tetto sono iniziati nell'agosto 2013, sarebbero dovuti terminare nel giugno del 2014, ampiamente superata questa data, come vedete c'è un telo di plastica che copre, da dove l'ultima precipitazione ha causato l'allagamento dei locali sottostanti della cancelliera penale, e di altri uffici per cui sono stati sgomberati, chiusi eccetera, con notevole disagio. Io credo che la copertura di un tetto non sia poi un'opera di ingegneria che richieda tempi così lunghi. Questa per esempio è un'aula che è stata adibita in via d'urgenza a Cancelleria Gip e Gup perché la Cancelleria Gip e Gup aveva problemi di pioggia, di infiltrazione, per cui se andate a vedere sotto, al piano di sotto, vedete che la situazione è veramente disastrata sotto il profilo igienico. Quindi lo spazio è questo.